Fa' attenzione. Vuoi dirmi dove siamo? Dove conservo gli ultimi barlumi della mia magia. La sola magia presente in questo mondo e nelle cose che ho portato con me. Il cappello non gira, non funziona. Il cilindro deve assorbire la magia di questo luogo. Mi è rimasto qualche oggetto. Dei piccoli ricordi. Non basta, serve qualcosa di più potente. Chi è quell'uomo? Una persona che non c'è più. Beh, a quanto pare il suo anello ha ancora proprietà magiche. Dammelo, vediamo che cosa posso fare. Se vuoi ottenere la tua vendetta, se vuoi riavere il tuo figlio, devi darmelo. Che succede? Perché non si è aperto il portale? La magia non è sufficiente. Non ci muoveremo da qui. Allora hai fallito. Non è detto. Ce n'è abbastanza per toccare l'altro mondo, ma non per portarci lì. Forse basta per arrivarci almeno con una mano. Posso prendere qualcosa dal vecchio mondo? C'è un oggetto che ti interessa? Potrei riuscire ad aprire un mini portale per afferrarlo. Però deve essere piccolo. Qualcosa che possa stare in una mano. C'è qualcosa di simile che potrebbe interessarti? Sì. Sì, ho in mente l'oggetto giusto. Allora devi dirigermi nel posto e nel tempo in cui possiamo trovarlo. Come? Concentrati bene. Guida il cilindro. Eccellente! A quanto pare funziona. Cosa stiamo cercando? Cerchiamo una mela.